La giusta combinazione di divertimento e insegnamento genera sempre ottimi risultati, spronando e stimolando nel modo giusto i ragazzi di ogni età. Stamattina al Cineteatro Corona di Quarto ha avuto luogo l'alternativa lezione d'inglese del professor Clive, seguita con entusiasmo dai ragazzi della scuola media Gobetti, incantati da questo insolito insegnante che nella sua tipica miss da gentleman inglese ha dato vita a uno spettacolo al tempo stesso educativo e divertente. L'idea, la speranza è proprio non far esplodere la voglia di studiare l'inglese, ma almeno stimolarli, perché l'inglese è una lingua che ci serve per lavoro, visto che il lavoro scasseggia per tutti quanti, ma quel lavoro che c'è serve qualche parolina di inglese, quindi dobbiamo usarlo. Io sono un furbacchione perché io uso il mezzo più bello del mondo, che è la musica, perché la musica è senza frontieri, senza bandieri. Clive Griffith, conduttore radiofonico, noto anche per la sua collaborazione con Radio Monte Carlo, è senza dubbio il fautore di metodi di insegnamento stravaganti e allettanti. Famoso è il suo programma Speakeasy, durante il quale insegna l'inglese a tempo di musica, attraverso la traduzione dei testi delle canzoni più famose, arricchendoli di espressioni idiomatiche al passo con i tempi. Metodo che ha riscosso gran successo e che ha spinto diversi istituti scolastici a creare un rapporto di collaborazione con questo simpatico insegnante, per sensibilizzare e spronare i ragazzi ad acquisire sempre maggiore familiarità con la lingua glosassone, divenuta ormai di importanza internazionale, capace di abbattere ogni frontiera. È un modo diverso e soprattutto alternativo, attraverso il quale noi vogliamo tendere a far apprendere delle strutture, delle frasi idiomatiche in modo divertente, in modo più stimolante, in maniera allegra e soprattutto entusiasmante.